E rientriamo in studio. E rientriamo in studio. I rispingimenti degli ebrei che il governo svizzero ha dotto durante le persecuzioni naziste. Silvana Calvo si occupa da anni di razzismo e antisemitismo nel Novecento, in particolare di Shoah, della situazione degli ebrei in Svizzera e della stampa del tempo. E la presidenza dell'Università per la terza età di Alghero comunica che oggi alle 16.30 presso la sala dell'ex seminario si terrà una conferenza del dottor Walter Battistoni, già direttore dell'aeroporto di Alghero, dal titolo La storia dell'aeroporto di Alghero. Come ogni anno la banda musicale da Lerci si prepara a festeggiare la sua patrona. Il 22 novembre è una data importante per questa istituzione cittadina che per l'occasione da venerdì e fino a domenica in programma alcuni eventi sentiamo. Il 22 novembre è una data molto importante per l'associazione Banda Musicale da Lerci. È la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti e come da tradizione centenaria sarà venerata con un concerto a lei dedicato, la processione e la Santa Messa. I festeggiamenti avranno inizio venerdì 23 di novembre alle 20.30 presso il Teatro Civico di Alghero dove la banda da Lerci presieduta da Salvatore Camerada in versione orchestrale terrà il concerto a Santa Cecilia con un vasto repertorio musicale che spazierà dalla musica leggera come i Queen, Pooh, Mr. Sexo Beat alle melodie più classiche come il Vapensiero di Giuseppe Verdi. Durante la serata presentata da Gian Pietro Moro e Martina Vacca sarà assegnato il premio Santa Cecilia ad un personaggio che si è distinto nella carriera musicale dando grande importanza alla musica popolare algherese. La direzione artistica è affidata al maestro Pietro Dore, diplomato al Conservatorio Canepa in Viola, docente dei corsi bandistici gratuiti finanziati in parte dalla regione Sardegna e dalla stessa associazione tramite i servizi bandistici patronali civili e religiosi. Tra l'altro il maestro collabora con diversi musicisti in campo nazionale e con l'orchestra filarmonica della Sardegna. Domenica 25 alle 11.30 con partenza dalla cattedrale di Santa Maria si snoterà la processione per le vie del centro storico accompagnata dai gremi e bandiere e dalle autorità civili e religiose. Al rientro sarà celebrata la Santa Messa, la cittadinanza è invitata a partecipare, l'ingresso al concerto di venerdì è gratuito. E per lo sport parliamo oggi di rugby, i campionati sono fermi in concomitanza con gli impegni della nazionale, dunque facciamo il punto sull'andamento dell'amatore Novaco Alghero dopo le prime sei giornate di questa stagione. I campionati di rugby sono fermi, non si tornerà in campo prima del 2 dicembre, questo per gli impegni della nazionale che sta affrontando alcuni test match, il primo con la nazionale Tongana, l'ultimo con la Nuova Zelanda sabato scorso all'Olimpico. Il popolo del rugby dunque non è rimasto orfano della palla ovale, il periodo di pausa può essere sicuramente buono per ricaricare le prime pile scaricate in questi appuntamenti iniziali di stagione. Guardando nello specifico in casa nostra, la Novaco si sta bene comportando in campionato, prima dello stop ha infatti vinto anche la gara sul campo del paese, guadagnando altri 4 preziosi punti per la sua classifica. La compagine allenata da Gert Pins ora è sesta a quota 13 punti, a meno 7 dalla vetta occupata dal Colorno, 5 le vittorie e una sola sconfitta. Vincere è importante ma per l'amatore lo è ancora di più vista la penalizzazione di 8 punti con la quale si è trovata a dover fare i conti anche quest'anno. La squadra ha risposto bene, ha messo in evidenza una buona amalgama con ottimi giocatori, molti algheresi ritornati a rivestire la maglia giallonera. Importante è anche la convocazione nella nazionale tongana dell'apertura Fangatapua Picotoa, che gioca ad Alghero e che ha segnato 13 punti nel match contro l'Italia. Le motivazioni non mancano, i tifosi neanche. Domenica 2 di dicembre sarà una partita importante. A Maria Pia arriverà il Custorino, formazione che precede in classifica le aquile giallonere di soli due punti. Un successo potrebbe dire sorpasso. Staremo a vedere se la pausa gioverà ai ragazzi di Pins. E dalla palla ovale allo judo, domenica scorsa, ad Alghero, presso la palestra dello judo club Alghero, si sono svolti gli esami regionali di graduazione per il passaggio di grado a cintura nera primo, secondo e terzo Dan. Davanti alla commissione esaminatrice, circa 30 candidati provenienti da tutta la Sardegna, tra cui ben 7 atleti dello judo club Alghero, hanno sostenuto e brillantemente superato l'esame. Le neocinture nere primo Dan sono Andrea Fanciulli, Mauro Marras, Silvia Martinez, Enrico Natalizio, Claudio Placidi e Francesco Serra, mentre Roberto Nulveso, l'unico promosso a cintura nera secondo Dan. Una grande soddisfazione per la società sportiva judo club Alghero, oltre che per l'eccellente risultato che tutti i candidati hanno dato prova di una accurata preparazione, ovviamente con tante ore di palestra. La congratulazione quindi ai judoca Algheresi, era l'ultima notizia dell'edizione odierna del nostro telegiornale, vi lascio al meteo e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.